Evade dai domiciliari nella sua casa a Bareggio e per di più è anche tra gli autori di una rissa al bar così passa dalla detenzione presso la sua abitazione al carcere di San Vittore è costata cara la voglia di un po' di attività fisica a un residente di Bareggio che ha deciso di uscire di casa con la figlia purtroppo per lui non era autorizzato a muoversi di casa ma ha provato lo stesso nella speranza che nessuno lo avrebbe poi controllato non solo ha cercato di raggiungere una palestra cosa già di per sé molto rischiosa ma passando davanti a un bar di piazza Cavour a Bareggio ha notato una persona di sua conoscenza un ragazzo con il quale aveva un conto in sospeso alla vista di quella persona non ha saputo resistere è sceso dall'auto lo ha avvicinato e anche ingaggiato una lite furibonda aveva anche in mano una mazza come se non bastasse i colpi dell'arnese sono finiti anche sull'auto del rivale che non è stato a guardare ha afferrato una spranga per difendersi al punto che il bareggese è stato costretto a farsi accompagnare in ambulanza al pronto soccorso di Rò la situazione ormai era pesantemente degenerata e fuori controllo i carabinieri della stazione di Bareggio sono intervenuti subito e lo hanno arrestato sia per essere uscito di casa senza il permesso del giudice che per quanto è accaduto nelle ore successive l'uomo è così comparso davanti al giudice per direttissima per rispondere dei reati di evasione e danneggiamento aggravato dopo varie considerazioni anche da parte del giudice di sorveglianza l'uomo è stato portato al carcere di San Vittore di Milano